Everton Manchester United 1 a 0 Gordon al 27esimo autorite al 17 Jordan Pickford fa una parata a Marcus Mashford superando un'occasione sventando il pericolo passando in vantaggio al 27esimo l'Everton con un pallone deviato beffa l'incolpevole David De Gea al 36esimo Miklanshov tira un tiro che David De Gea ha una visuale libera e riesce a parare senza troppi problemi al 37esimo l'Everton ha la possibilità di segnare grazie a un corner spazzando un difensore con un minuto di recupera terminando la partita di gioco nella ripresa della partita l'Everton ha una viotta occasione di segnare il secondo gol che portiene del Manchester sventa il pericolo svendolando il pericolo al 76esimo David De Gea per non essere beffato al 76esimo Bruno Fernandes ha un'occasione per segnare ma trova un difensore a Versani che spazza all'83esimo un difensore dell'Everton allontana una minaccia con un cross di un giocatore del Manchester United con 5 minuti di recupero al 93esimo il Manchester fallisce un gol con Cristiano Ronaldo facendo un miracolo Jordan Pickford sarebbe stato il pareggio del Manchester United finendo la partita con una vittoria dell'Everton in casa battendo il Manchester United portandosi a 31 punti Everton e Manchester United 51 punti se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale azionate la campanella e un commento se il video è stato di vostro gradimento ciao